Sorpresi sul gol e poi non tanta fariga per controllare gli attaccanti della Bernardo. La partita, come penso si sia vista, è stata decisa dagli episodi. Noi abbiamo concesso poco, siamo stati bravi a concedere poco, ma anche loro non ci hanno concesso grosse occasioni, forse abbiamo avuto qualche rigore per poter sbloccare la partita. Loro sono stati bravi a sfruttarla, noi un po' meno. Questo è quello che ha portato al risultato. Secondo me la partita, a livello di atteggiamento difensivo e di modo di affrontarla, è stata affrontata nella maniera giusta. Il risultato ci penalizza, quindi dovremo lavorare di più. Quanto pesa il derby perso in un avvio di campionato? L'anno scorso era la fine, quindi contava molto. Adesso penso abbia un peso specifico e inferiore rispetto a quello dell'anno scorso. Sì, sicuramente ha un peso perché sappiamo dell'importanza della partita per la tifoseria, per la città, quindi siamo dispiaciuti per questo. Però noi dobbiamo essere bravi a non buttarci giù e mantenere la concentrazione, il morale alto, perché comunque abbiamo un campionato ad affrontare e non finisce oggi dopo una sconfitta nel derby, quindi sicuramente dobbiamo essere bravi a mantenere lucidità e lavorare. Adesso abbiamo due settimane per poter lavorare per la prossima partita, quindi dobbiamo essere bravi a lavorare e fare di più, perché evidentemente quello che abbiamo fatto fino adesso non basta. domande? Ok, dobbiamo guardare, perfetto. Grazie così. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.